Mitten in einem breiten garden... Guarda, era così, era così! Ehi, legge! Ecco! Etwa 5 minuti... Fuce! 5 minuti dal centro entfernt. Ein bleibter Trepppunkt für unseren Gast ist... Der große... Aspette! Mir ist ein Wasser-Schwimmingpool. Wow! Si va, si va, fai il bagno in piscina! Mir ist eine Grüne Linguinweise. Oh, függio il volo! In macchina függio il volo! E dove vai? Hier kann Manu Paulenzel oder Sportart... E poi si kann in Manu! Mini-Golf, Tenny, Tischtenny, Volleyball. Unsere Gäste stehen außerendem. Ein Solarium, ein Panorameterrazzo und ein Fitnessraum... Zu mir schon parli, Rumäno! Unsere... Me lo ricordo, für das Zimmer... Sind moderne und gemütlich eingerichte. Jeden Zimmer, per Fugtuber, Bad, Dusche, WC... Temanlage, Balcon mit Blick aufs Meer... Direkt Valtelefon, Farbversier und Minibar. Kabine, Lichtstühle und Schirme auf der Straße sind im Preis in Begriffen der Strande... Das Video wird auf Youtube... Bitte guter Schirme! Schirme! Daher war ein Zürfe Moglikeitsch Schirme auf der Straße sind im Preis... Ma perché non me lo tradusci? Ora te lo traduco. Kurtax è un... Ora te lo traduco. Il nostro hotel 4 stelle si trova direttamente sulla spiaggia. Ma la soldi che qui è? Ha un grande giardino. Hotel Maria e Monti. Qualcosa come 5 minuti lontano dal centro. Un punto di ritrovo per i nostri clienti è una grossa piscina con acqua di mare con un grande prato con le sedie, l'edraio. Qui si può praticare sport o ziare. Mini golf, tennis, golf, ping pong. Il trincese è molto più potente. Il trincese è da finocchio. No. È da FIA. Per i nostri clienti sono a disposizione un solario, una terrazza con panorama, una stanza di fitness. La mizzocra di massero? Bravo. Le nostre 90 camere sono arredate modernamente e accoglienti. Ogni stanza dispone di bagno, docce, WC, climatizzatore, il balcone con la vista sul mare, un telefono con la linea diretta, senza soldi, poveri. Una tv a colori e un minibar. La tv come lo vuoi in bianco e nero nel 2008. Eh, ma infatti, vabbè. Sono comprese nel prezzo la cabina, l'esdraio e gli ombrelloni sulla spiaggia. La spiaggia offre una piscina. Insomma, possibilità della piscina e roba del genere. Poi fa save, vela, però ci vuole... Tutte queste acciate di via. Sì, e poi mi sono sancato. Sì, no, ma non lo fai cruciare, ma se il cruciare è detto... Sì, no, ma non lo fai...